Per non dire infantili. Io sono un matematico e credo che tutti quelli che si pongono domande come che sto a fare qui si fanno domande adolescenziali, per non dire infantili. Io non ho mai avuto il bisogno di farmi queste domande. Commento. Nella realtà hanno ragione sia quelli che pensano come il matematico, sia quelli che si fanno le domande che per lui sono infantili. Infatti quelli che non si pongono queste domande vivono nel dominio della mente, mentre quelli che se le pongono iniziano a vivere di coscienza.